Stiamo testando un impianto per la produzione di carciofi arrostiti. Qua stiamo in mezzo a tutte queste abitazioni, come vedete, tutto intorno. Abbiamo fatto un sistema ad acqua che deodorizza il fumo. Il signore Ernesto, con il figlio, sta nella produzione di carciofi. Come vedete, questo è l'impianto, è un impianto di test. Vedete, e questo è il risultato. I clienti sono soddisfatti, ovviamente da vedere in varie situazioni. Però questo è il risultato, come fumo.